Il peso al mondo, se non siamo un ribaltato, un ribaltato, eccoci, che fai questa rasata, che la fai? La risata sornavo, vuoi trascimare giù, trascimare giù, bravo, adesso qui io procuro un motorino, io metto un piede tutto forte, bravo, comando schermo, quanto mi piace, portami dentro nella casella, no.